buongiorno a tutti siamo di nuovo in canile cominciamo con lei che è una cucciolona lui è roxas è una cucciolona tipo incrocio cane corso 9 10 mesi è dolcissima tra le zampine posteriori un po storte questo è pello morto si dovrebbe spazzolare un po di bello abbiamo perso femminuccia vedi se gioca con i giochini a te ma sei proprio una scemotta una cucciolona sta bene il rosa però è vero guarda per vedere i piedini dove vai vieni qua che fai sbatti mi sbatti contro bella è un bel pelo guarda a parte il pelo morto le zambine c'è un po di pelo morto le zampine le zampine da due dita in più che c'è? sta riuscendo? vieni qua vieni qua vogliamo giocare un po vieni qua vieni qua vieni qua guarda quanti scema guarda con le orecchie ha questo zampone stanno facendo amicizia andiamo andiamo lei vorrebbe giocare con Roxas si è vero volevo giocare guarda com'è sta contento libertà guarda Roxas com'è bello con le orecchie su è bellissimo sembra un lupotto c'è un po' paura forse Roxas e non è tanto convinto è un po' più spagna oh ti ha arrivato dove è? eh vedo dopo ciao questo sei bellissimo ci vediamo dopo con te va bene? guarda un po' con le orecchie sulle mani bella guarda questo musone Maria ci sta guardando si pre Sabri Sabri Giorgi facciamo le foto si ehi vai vai oh cioè è chiaramente adesso mi puoi scattare anche quando provo oltre a fare lo so forse devi mettere con certi maù no ma ce l'hai fatto non so eh no questo è il musone gigantesco che ha buona che il musone gigantesco che c'ho Oggi conosco questa misura, mamma mia. La misura, Chiara. Com'è buona, eh? La misura. Ah, bravo, prendi il metro. È buona buona. Molto. Qua, no, davanti, davanti. Qui. Adesso la misuriamo, Mary, sei contenta? Orientativamente, perché poi non devi ancora crescere. Un caro un pochino penso di sì. Sì, guarda quelle zampo. Una mano, aspetta. Diciamo che si deve mettere anche in forza, perché ovviamente è cucciolona. 52. Ah, sì? Ecco, è questo il nostro. Grazie. Adesso cominciamo a scattare qualche foto, dai, che ci sono un sacco di cuccioli dopo, purtroppo. Saluta le zie. Saluta tutti. iniciativa. E aí o o o o o Grazie.